Arlotti, Lainati, Savino, Impegno. Allora, hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 109, contrari ai 250, la Camera respinge. Ordine del giorno 35, qui c'è una riformulazione, emendamento Micillo. Accetta la riformulazione? Sì, l'accetta, andiamo avanti. 36, corda, il parere è contrario. Votiamo questo emendamento. Dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno, certo. Fregolant. 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 Allora, siamo all'ordine del giorno 37, caso. Qui c'è una richiesta di riformulazione. Accetta la riformulazione? Sì. Andiamo avanti. 38, Cozzolino. Il parere è contrario. Mettiamolo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Basilio. Basilio. Pilozzi. Pilozzi. 147, la Camera respinge. Ordine del giorno 39, Brugnerotto. Il parere è contrario. Lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Allora, ci siamo? Hanno votato tutti? No, qui davanti, i rampi.